ciao ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale oggi ho trovato veramente qualche minuto di tempo per farvi vedere il preparato per la cioccolata non sono in cucina perché non è anche un tutorial è veramente una spiegazione molto molto veloce questo è il nostro rudolf con l'etichettina e dietro e abbiamo l'istruzione gli ingredienti ora vi racconterò perché è veramente una cosa semplicissima come prepararlo e vi darò anche qualche spunto per qualche altra preparazione in vista degli ultimi regali di natale e soprattutto dei regali che vogliamo fare ad amici golosi o magari anche soltanto un pensierino per chi ci fa un regalo all'ultimo minuto e quindi io ne tengo sempre davvero cioè faccio il preparato in un barattolone e tengo a portata di mano i miei vasettini oppure dei sacchetti alimentari e metto il preparato in una scatola di quelle che vi avevo fatto vedere che avevo comprato da tiger mi sposto tipo questa per esempio se noi ci mettiamo la nostra busta con l'etichetta con gli ingredienti è un bellissimo pensiero facciamo il regalo della scatola il regalo del preparato goloso della cioccolata o magari della torta o dei biscotti vanno da ormai da molti anni di moda questi di moda si è diventata poi una moda questi preparati per dolci ma non solo perché io un anno ho regalato anche tutti i preparati per le zuppe di legumi quindi ho comprato ceci piselli fagioli tutti secchi e disidratati di secchi i piselli erano disidratati se non mi ricordo male e avevo fatto poi le mie composizioni per i miei barattoli tra l'altro con i legumi vengono veramente bellissimi perché il piselli verdi il fagiolo nero avevo comprato anche le lenticchie quelle decorticate arancioni vengono veramente di quei barattoli colorati spettacolari e poi avevo scritto le istruzioni su un'etichetta mo di pergamena arrotolata e avevo fatto il mio barattolo del regalo del preparato per la zuppa ma veniamo al preparato per la cioccolata allora ce ne sono di ricette in giro per il mondo tantissime ognuno ci mette poi la sua personalizzazione e ognuno la fa un po anche a suo gusto quello che io faccio ormai da molti anni è questo poi vi lascio comunque le indicazioni giù nell'info box così non vi perdete niente e potete prepararlo anche voi sono proprio delle ricette velocissime cioè nel senso che ci mettete veramente pochissimo tempo quindi diciamo io preparo tutti questi ingredienti in una semplice ciotola di plastica o di vetro volendo li potete anche tritare nel bimbi o in un tritatutto in un frullatore se lo volete proprio sottile sottile ma sono già delle delle polveri ecco io in questa dove ho aggiunto le gocce di cioccolato ho tritato tutto col bimbi per comodità quindi per fare questo preparato di cioccolata vedete carino fin qua c'è il preparato e poi ho messo del dei piccoli marshmallow e delle meringhette colorate io ho utilizzato 35 grammi di cacao amaro 50 grammi di zucchero di canna 45 grammi di fecola di patate 70 grammi di cioccolato fondente e poi a piacere prendete dei marshmallow delle piccole meringhette e se vi piace nel preparato io metto sempre mezzo cucchiaino di polvere di vaniglia bourbon perché li da proprio quel profumo cioccolatoso natalizio buonissimo allora tutti questi ingredienti che vi ho citato quindi il cacao amaro lo zucchero di canna la fecola di patate il cioccolato fondente e la vaniglia bourbon la sbattete nel mixer o nel bimbi in un frullatore una frullatina veloce e vi rimane questa polvere ok questo queste quantità che poi vi scrivo vi servono per più o meno sono 200 grammi di preparato tenendo conto che ne va per ogni tazza più o meno 45 grammi quindi abbondando sono quattro porzioni di cioccolata allora voi frullate tutto e poi mettete nel vostro vasettino oppure nella vostra busta alimentare che poi andrete a sigillare decorate come ho fatto io aspettate che adesso qua scasso tutto con i vostri marshmallow e le vostre meringhette chiudete e il vostro preparato è pronto io qui come l'ho decorato l'ho decorato a rennina perché lo voleva l'abbiamo fatto per la vendita dei con il gruppo missionario quindi abbiamo ritagliato con il felt delle piccole orecchiette poi io qui avevo una fustella con le cornine della renna ma potete farle anche a mano perché le abbiamo fatte anche a mano senza problemi un bel nasino rosso potete metterci anche un bottone oppure una perlina di legno rossa e gli occhiettini che trovate in tutti i discount cinesi ce ne sono veramente di tutte le misure e di tutti i colori un piccolo nastrino una tag natalizia e poi ho stampato su una carta adesiva dicevo o poi stampato su una carta adesiva le istruzioni gli ingredienti per il preparato della cioccolata in questo non abbiamo messo la vanilla bourbon perché perché purtroppo costa tanto quindi non potevamo sobbaccarci anche questa spesa come gruppo missionario ma nelle mie che faccio a casa ce la metto ce la metto sempre perché perché mi piace quindi niente voi mescolate se non volete aggiungerci per esempio il cioccolato e soltanto la fecola lo zucchero e il cacao mescolate semplicemente in una bacinella e versate il composto in un vasetto fate poi lo strato con il marshmallow e le meringhette il vostro nastrino l'etichettina potete anche decorarlo come un babbo natale oppure come un angelo oppure lo mettete in un sacchetto di carta decorato con una bella etichetta con l'istruzione o magari con un disegno natalizio poi qui sta alla vostra fantasia ma si possono preparare anche i preparati per la torta questo per esempio non l'ho preparato io questo l'ho acquistato dal gruppo scout della lucia che ha fatto questi preparati su un'idea di una mamma e non diciamo chi hanno fatto questi preparati per le torte margherita e le hanno venduti come autofinanziamento per il gruppo scout ovviamente qui la cosa è molto molto semplice e basilare qui in questo vaso ci sono racchiusi 330 grammi di farina 00 250 grammi di zucchero 16 grammi di lievito poi a parte hanno fatto le istruzioni per fare la torta margherita e qui versate il barattolo in un ampia ciotola aggiungete un bicchiere di olio un bicchiere di yogurt e tre uova mescolate fino ad ottenere un composto fluido ed omogeneo cuocete in forno statico a 180 gradi per 40 minuti come vedete le idee sono davvero 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 tantissime io ho fatto che sono davvero molto belli anche preparati per i biscotti potete farlo anche per degli amici che hanno magari delle intolleranze o per chi magari è celiaco ovviamente stando sempre attenti a che tutto dove non ci sia la contaminazione quindi se lavorate in cucina ovviamente non ci devono essere in giro residui di pane di farina che hanno il glutine ma lo potete tranquillamente fare e sono dei regali secondo me molto molto carini divertenti che sicuramente tutti usano perché vabbè una torta margherita penso che piaccia più o meno a tutti se volete fare un regalo più ancora più goloso gli fate il preparato della torta alla margherita e gli regalate un bel vasetto di nocciolata oppure di nutella o di marmellata in modo che uno poi può arricchire la sua torta con altri ingredienti insomma le idee sono davvero davvero tantissime per le ricette potete fare le ricette che piacciono a voi oppure se sapete a chi dovete regalarla delle ricette che apprezzino i vostri i vostri amici insomma e sbizzarritevi divertitevi sono davvero molto molto veloci molto d'effetto soprattutto se per esempio fate che ne so una torta al cacao se voi in mezzo ci mettete il cacao e poi sopra magari delle noci o delle mandorle come decorazione cioè vengono davvero degli strati molto colorati molto molto belli e poi li potete decorare questo ovviamente è fatto da dei ragazzi che non avevano tantissimo materiale ma li potete decorare oppure anche applicarci una bella etichetta con la gli ingredienti la descrizione poi per la torta e magari un pacchetto di natale oppure ci sono anche tanti abbellimenti in legno che si possono aggiungere insomma secondo me la vostra fantasia la fa da padrona in queste preparazioni e nulla che altro dirvi avevo proprio cinque minuti e ho pensato che ho adesso o mai più quindi questa è la nostra renina rudolf con il preparato al cioccolato vi lascerò le indicazioni delle quantità sotto ovviamente se fate come me che fate il barattorone da un chilo moltiplicate per due per tre per quattro le le quantità che vi metto le quantità che io vi lascio nella nella nell'infobox sono per un insieme ai aggiungendo poi insieme i marshmallow e le meringhette per un barattolo più o meno di 400 grammi che sono quelli della grandezza delle delle marmellate in generale che troviamo ai supermercati è anche un ottimo modo per riutilizzare i vasetti di vetro puliti e disinfettati non li buttiamo li teniamo da parte magari cinque o sei e possiamo poi metterci i nostri preparati da regalare quando più ci piace o anche a natale è una cosa davvero veloce ma sicuramente molto molto carina che farà piacere a chi la riceverà bene io adesso scappo perché ho alcune cose da fare spero davvero di avervi dato qualche idea e fatemi sapere se non so delle idee di questo tipo vi possono piacere perché avevo anche pensato di fare dei tutorial di cucina ma proprio a livello tecnico diventa un po più complicato però magari queste cosine molto veloci molto easy si possono fare anche senza fare un un vero tutorial bene io vi abbraccio vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio ciao a presto